Endless Love, anticipazioni 3-9 giugno, Kemal affronta Kosquogliu, Tariq viene rilasciato. Le anticipazioni di Endless Love nella settimana che va dal 3 al 9 giugno 2024 su Canale 5 rivelano che Tariq verrà rilasciato grazie all'intervento immediato dell'avvocato di Emir Kosquogliu. Dinep assisterà a un incontro tra Leila e Onder, durante il quale l'uomo confesserà di essere infelice senza di lei. Kemal, invece, si recherà da Emir per affrontare il caso di Muigane e metterlo al corrente del fatto che fu suo padre a istigare la moglie al suicidio. Onder confessa il suo amore a Leila, anticipazioni Endless Love al 9 giugno 2024 Nian chiederà a Kemal di non nasconderle più nulla e di essere sempre sincera con lei, così da poter aiutarlo. A quel punto la donna deciderà di schierarsi a favore del suo amato e si dirà disposta ad aiutarlo nella ricerca della donna che sta cercando da diverso tempo, trattasi di Nur Senerran. Zeynep, invece, si ritroverà ad assistere a un nuovo incontro tra Leila e Onder, l'uomo confesserà alla sua amata che nel periodo in cui sono stati distanti l'uno dall'altra, ha capito di aver vissuto una vita infelice senza di lei e di non voler più farne a meno. Dopo aver ascoltato la conversazione tra i due Zeynep non perderà occasione per correre e subito Davilda ne metterà al corrente dell'incontro avvenuto in gran segreto tra Leila e Onder. Quale sarà la reazione della donna? Tariq viene rilasciato, Kemal affronta Emir le anticipazioni dei nuovi episodi della soap opera fino al 9 giugno. Inoltre, rivelano che Usain proverà a convincere Kemal di aver commesso un grave errore procedendo con la denuncia contro Tariq. Intanto Tariq dopo essere stato arrestato verrà rilasciato nel giro di poco tempo grazie all'intervento immediato dell'avvocato di Emir, che riuscirà a tirarlo fuori dei guai. Spazio anche a un flashback con il quale si farà chiarezza sulla morte di Mewigan, si scoprirà che la donna si trovava sul ciglio del balcone pronta a buttare, ma in realtà non ha compiuto questo gesto in autonomia bensì fuga Lip a spingerla nel vuoto. Kemal si riterà da Emir per rivelargli che, in realtà, suo padre instigò la moglie al suicidio. L'appuntamento con la soap prosegue nel weekend fino al 23 giugno dopo il buon successo di ascolti registrato dalla soap opera nel weekend pomeridiano di Canale 5, si è scelto di farla proseguire con puntate speciali al sabato e alla domenica fino al 23 giugno. In questo modo la soap tour che assicurerà un buon traino all'appuntamento con Verissimo, di cui fino al 23 giugno sarà trasmesso il best of di questa edizione, con le migliori interviste che sono state realizzate dalla conduttrice Silvia Toffanin, tra cui quelle ai protagonisti di Endless Love e Terra Amara.